Mercoledì 17 febbraio 2021, ottavo incontro della Scuola di Preghiera in San Fedele e le istruzioni sul colloquio. Vorrei inserire le istruzioni sul colloquio all'interno di quello che è accaduto mercoledì scorso e che ci ha fatto rimandare l'incontro già previsto scombinando la sequenza del percorso. Dopo i saluti ci siamo trovati a decidere insieme di dedicare l'intero incontro alla condivisione. Così ciascuno di noi ha parlato di come sta vivendo questo periodo tanto difficile in parallelo all'esperienza sul colloquio maturata finora. Il colloquio è precisamente la parte del metodo ignaziano della contemplazione immaginativa più importante. Perché nel colloquio si presenta per primo a Gesù l'esperienza appena vissuta per chiedergli in che modo questa esperienza può essere utile non solo alla nostra vita di fede ma soprattutto alla nostra vita quotidiana. In un certo senso il colloquio è la parte più importante perché è l'anello che unisce il nostro amore a Dio al nostro amore per il prossimo, al nostro essere discepoli di Gesù nel mondo. Le due domande della condivisione di mercoledì scorso erano come sto vivendo questo periodo di emergenza Covid e qual è la mia esperienza del colloquio hanno calato la definizione di colloquio che ho appena dato nell'esperienza viva di ciascuno di noi. Come parlo a Gesù di quello che sto vivendo, delle mie preoccupazioni e sono diventate un'occasione molto profonda anche per conoscerci e riconoscerci. Dopo che l'incontro è terminato mi è sembrato importante che tutto quello che ci eravamo scambiati non andasse perso e vi ho invitati a trascrivere brevemente quello che avevate detto. A coloro che hanno accettato l'invito ho poi inviato l'insieme dei brani scritti con un secondo invito scegliere gli scritti di tre compagni e in preghiera associare a ciascuno scritto un brano evangelico. Hanno fatto questo esercizio, a sorpresa, una quindicina di persone, di Loyola e di Favra. Nelle scuole di preghiera di San Fedele degli anni scorsi un esercizio di questo tipo non era mai capitato. Una felice prima volta. Non mi è ancora molto chiaro in che modo questa prima esperienza potrà declinarsi nella pratica del percorso dei due gruppi ma sicuramente è un faro che indica la direzione verso cui orientarci e al tempo stesso illumina l'orizzonte della nostra comprensione del significato più profondo degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Uno degli interpreti contemporanei più acuti degli esercizi, paradossalmente, è un ateo, il filosofo francese Roland Barthes, che ha inserito il libretto di Sant'Ignazio tra i dieci libri più importanti della storia della letteratura di ogni epoca. Secondo Barthes, la struttura che sostiene quest'opera è eccezionale perché si traduce in una concatenazione di molti autori diversi. Primo autore, Dio, detta, dà gli esercizi a Ignazio. Ignazio dà gli esercizi al direttore spirituale. Il direttore spirituale dà gli esercizi all'esercitante. L'esercitante offre a Dio il frutto dei suoi esercizi e infine Dio risponde all'esercitante che a sua volta riporta la propria conversazione con Dio, con Gesù, al direttore spirituale per verificare e ricevere nuove istruzioni per il passaggio successivo. Un'intuizione sublime. Ma a Barthes, filosofo strutturalista e poi post-strutturalista, interessava solo l'aspetto della struttura, non quello dei contenuti. Se osserviamo questa struttura prestando invece attenzione anche ai contenuti, notiamo che le comunicazioni tra Dio e Sant'Ignazio, Sant'Ignazio è il direttore degli esercizi, il direttore degli esercizi e l'esercitante e l'esercitante e Dio sono sempre basati sui misteri della vita di Gesù. I misteri della vita di Gesù, narrati dai Vangeli, creano dunque l'alfabeto affettivo e spirituale che consente al creatore di comunicare con la sua creatura e alla creatura di decifrare i messaggi che riceve dal creatore. E non solo consentono alla creatura, all'esercitante, di applicare i messaggi di Dio a ogni circostanza della propria vita, ma anche di associarli alle circostanze della vita di altre persone. L'esercitante chiamato a svolgere il ministero degli esercizi spirituali potrà poi ricevere una formazione specifica in quella direzione, ma potenzialmente ogni persona, sto parlando di noi, che segue questo metodo sarà con il tempo in grado di interpretare la propria e l'altrui vita alla luce dei Vangeli che di questo metodo sono il cuore grazie agli esercizi. Ogni mattezzato dunque è di per sé in grado di consigliare altri su come trovare nei Vangeli un efficace sostegno per il proprio cammino, per tramite della nostra immaginazione e dell'immaginazione con cui ciascuno di noi è entrato in ciascuno dei racconti evangelici. La grazia di una conoscenza intima di Gesù che chiediamo all'inizio della preghiera ci viene concessa quando contempliamo i racconti evangelici. Al termine della preghiera, nel colloquio, parliamo con Gesù come un amico a un amico dei frutti che abbiamo appena raccolto. Nel colloquio riceviamo da Gesù nuove istruzioni sia per trasferire quei frutti nella nostra vita quotidiana sia per verificare in seguito i frutti raccolti tramite nuovi brani evangelici. In seguito, dopo che la preghiera è terminata, apporgiamo al discernimento della guida con un amico a un amico i frutti della preghiera e i commenti di Gesù per ricevere dalla guida nuove istruzioni che chiariscono le istruzioni che abbiamo ricevuto da Gesù o quelle che abbiamo intuito. Se poi, oltre alla guida, abbiamo il privilegio di condividere le nostre esperienze di preghiera con un gruppo di amici che come noi contemplano gli stessi brani, a poco a poco viene a formarsi una comunità che parla la medesima lingua e possiamo aiutarci reciprocamente sia a leggere l'esperienza vissuta in preghiera sia a individuare quale delle esperienze di Gesù che ciascuno di noi ha intuito così intimamente grazie a questo metodo può essere utile alla crescita umana e spirituale dei compagni. La sorpresa che lo Spirito di Gesù ci ha regalato la settimana scorsa spingendoci ad accogliere il comune desiderio di parlare un po' di noi stessi anziché seguire la scaletta programmata si è così trasformata in un seme di consapevolezza condivisa. Come accade nel colloquio spesso vedremo constateremo lo Spirito di Gesù non risponde alle nostre domande a chiare lettere non sempre completa le frasi ora il compito di accudire insieme affinché diventi un germoglio e poi cresca con il suo aiuto e la sua benedizione è tutto nostro grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti